Cari ascoltatori, vi dico solo questo, che Dio vi benedica, quanto a voi bastardi al potere, non sperate che sia finita, anni che passano, anni che vengono, e i politici non faranno mai un cazzo per rendere il mondo un posto migliore, ma ovunque nel mondo ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni e tradurranno quei sogni in canzoni. Non muore niente di importante stanotte, solo quattro brutti ceppi sulla nave di merda. L'unico dispiacere stanotte è che negli anni futuri ci saranno tante fantastiche canzoni che non sarà nostro privilegio trasmettere, ma credete a me, saranno comunque scritte e saranno comunque cantate e saranno comunque la meraviglia del mondo. Attacca!